L'ARPAC il 4 giugno scadeva la diffida della regione Campania che era stata fatta sulla base della relazione finale del novembre 2017 dove, ricordiamo, per la prima volta l'ARPAC aveva trovato, aveva scritto nero su bianco, che le fonderie creavano rischio di ossina, avevano 9 BAT, le migliori tecnologie dell'AIA non applicate e quindi superavano i limiti di legge sia dal punto di vista dell'atmosfera, nei rumori e in altri ambiti. Quindi l'ARPAC dava delle prescrizioni ben precise a novembre 2017 che doveva la fonderia mettere a norma l'impianto. Qualora, come siamo sicuri, non faceva quei lavori e non metteva a norma, non superava le criticità, ma noi siamo sicuri che non l'ha superata perché la puzzana si abbonda, le polveri nere, metalliche, sono identiche. Noi anche la settimana scorsa in cui la fabbrica ha lavorato abbiamo subito l'avvelenamento uguale agli altri, a prima della relazione dell'ARPAC del novembre 2017. Tutto è rimasto uguale, quindi siamo convinti che non ha superato le criticità. Però senza i controlli dell'ARPAC che dovevano andare il 5 giugno, questo non viene certificato. Ricordiamo che se, come noi sospettiamo, non ha superato quelle criticità e non ha ottemperato alle prescrizioni imposte dalla legge, dalla regione campane dall'ARPAC la fonderia va sospesa. C'è uno dei comma della normativa che prevede la sospensiva per 60 giorni. Quindi vanno sospese le attività della fonderia fino ad arrivare ad una nuova revoca dell'AIA. Quindi non comprendiamo, anzi comprendiamo l'atteggiamento dell'ARPAC. Purtroppo noi sottolineiamo che l'ARPAC di Salerno ha 5 funzionari e 3 dirigenti che sono stati rinviati a giudizio per falso ideologico e abuso d'ufficio, perché hanno falsificato la documentazione e i dati. E questo è un dato di fatto. L'atteggiamento che anche oggi si ha, quello di attendere, di far passare quasi un mese prima di andare a fare i controlli e ad oggi non sono ancora andati, forse andranno la settimana scorsa o fra due settimane, è un atteggiamento grave che nasconde un comportamento di complicità e soprattutto di sottovalutazione della grave situazione. La popolazione di tre comuni, Salerno, Baronissi e Pellezzano, continua ad essere avvelenata dalle fonderie Pisano grazie al comportamento omissivo degli organi preposti che devono controllare. ARPAC e ASL continuano a non fare nulla a sostegno del diritto alla salute e all'ambiente.